No alla prescrizione per la morte di Martina Rossi. E' questo il grido di decine e decine di utenti sul web che si è alzato dopo l'ennesimo rinvio del processo per la morte della studentessa Ligure stabilito dalla Corte di Cassazione lo scorso agosto. Martina Rossi perse la vita all'alba del 3 agosto 2011 dopo essere precipitata dal balcone della Camera 609 dell'Hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca. secondo l'accusa cercando di scappare ad un tentativo di stupro. In seguito alla tragedia sono finiti a processo due giovani aretini Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni. La vicenda però va ormai avanti da anni con molti colpi di scena. La condanna in primo grado, l'assoluzione in appello, la decisione della Cassazione di far ripetere il processo d'appello ed una nuova condanna. Adesso, dopo il ricorso dei legali dei due giovani aretini, tutto tornerà in Cassazione. Nel frattempo però, uno dei due reati, la morte in conseguenza di altro reato, è caduto in prescrizione. L'altro, per il quale i due sono stati condannati, ovvero la tentata violenza sessuale di gruppo, sarà prescritto a fine mese. E così, dal gruppo Facebook Verità e Giustizia per Martina Rossi, è partito l'appello per la petizione indirizzata al Presidente della Repubblica e al Ministro della Giustizia, nella quale si chiede di garantire il corretto e regolare svolgimento dell'udienza fissata per il 7 ottobre. Oltre 640 le firme raccolte fino ad oggi. Non solo però, in merito al ricorso depositato legittimamente presso la Procura di Perugia dal legale di Albertoni, ma trasmesso in ritardo a quella romana, i firmatari chiedono che venga aperta un'indagine per far chiarezza sull'accaduto con le responsabilità ad esso connesse.